Oggi andiamo a vedere quali ETF, quali azioni ho scelto per inserire all'interno del pack. Il pack che analizzeremo e gestiremo all'interno di questo canale. Tutto ciò dopo la sigla. Iniziamo immediatamente senza perdere ulteriore tempo. Perciò eccoci qua. Iniziamo immediatamente a vedere che cosa ho selezionato. Qui siamo sul nostro Trading View. La prima azione che ho selezionato è questa qui, ILCG. Chi è ILCG? Andiamo a vederlo qui. ILCG, come possiamo vedere anche dal nome qui, è un ETF di Morningstar Growth. Growth che cosa si intende? Si intende che al suo interno vi sono un insieme di aziende di crescita. Perciò è un ETF all'interno del quale abbiamo una serie di aziende. Attraverso il sito ETF database possiamo andare a vedere morte e miracoli di questo ETF. Andando a vedere il fatto anche che ci dia un dividendo, seppur non altissimo. Andando a vedere quali sono stati gli ultimi risultati, il grafico, appunto gli ultimi risultati, la performance. Come possiamo vedere, negli ultimi tre anni ha fatto un 95%, altro che banche. Possiamo vedere una serie di cose e la cosa che più mi interessa è le holding, ovvero da che cosa è composto questo ETF. Possiamo vedere che al suo interno abbiamo Microsoft per il 10%, poi abbiamo Amazon, Apple, Facebook, Tesla, Alphabet, Visa, Nvidia, PayPal, Adobe, Netflix e così via. Quindi tutte aziende di crescita. Quando parliamo di aziende growth parliamo anche di aziende value. Perché? Perché tendenzialmente, almeno secondo le regole del mercato, regole, secondo la storicità del mercato, le aziende growth tendono ad aumentare, quindi a crescere di valore quando? Quando siamo in un periodo di espansione economica. Quando invece, pian piano, l'economia tende ad andare peggio, per così dire, sempre semplificando tantissimo, hanno la meglio le aziende value. Quindi aziende growth, aziende value, a volte hanno uno stesso andamento, ma a volte hanno un andamento dissimile, appunto. un andamento non uguale. Infatti abbiamo appena visto il portafoglio, un ETF growth. Adesso andiamo a vedere un ETF, un ETF value, che si chiama invece ILCV, sempre di Morningstar. Teniamo conto di questo andamento che abbiamo visto, ILCV, ecco qui la differenza. Anche questo è cresciuto tantissimo nell'ultimo periodo, e anche questo voglio che faccia parte del mio pack. Se non erro, è così, possiamo andare a fare anche il confronto, andando a metterci appunto ILCG, ovvero il portafoglio growth. Ecco qua. Possiamo vedere la differenza tra questi due portafogli, come ha performato uno rispetto all'altro. Vediamo come il growth, ovvero la linea arancione, abbia avuto una performance molto più intensa rispetto al value. La possiamo vedere anche come sia più volatile. Infatti, quando va in sofferenza il titolo growth, il titolo value ne va molto di meno. Vediamo qui. Vediamo la discesa che ha avuto qui, l'ETF growth rispetto all'ETF value. O soprattutto qui, nell'ultimo periodo, stiamo parlando di febbraio 2021. E così via. Quindi io vorrei averle entrambe in portafoglio, perché entrambe mi sembrano delle ottime azioni, delle ottimi ETF. Soprattutto da tenere in un piano di accumulo. Quindi, da che cos'è composto il portafoglio value? Andiamo anche qui a vederlo. Anzi, prima vediamo le performance. Sono un po' più basse rispetto al portafoglio growth, però possiamo vedere. L'ultimi 5 anni è un 71%. Cioè, di che stiamo parlando? Cioè, veramente cifre enormi. In un anno è il 40%. Ah, importante. Il fatto che abbia fatto il 40% lo scorso anno, o che abbia fatto il 71% in 5 anni, non significa che farà performance simili nei prossimi anni. Anzi, probabilmente non le farà. Però, appunto, essendo di titoli di grande importanza, sono titoli a cui io sento di voler dar fiducia. Infatti, torniamo al nostro schermo. Eccolo qua. E possiamo andare a vedere da che cosa è composto. Andiamo a holding. Ecco qua. Anche qui abbiamo Apple, come nel portafoglio growth, paradossalmente. Però, poi, vediamo le altre. JP Morgan, una delle banche più grandi al mondo. Johnson & Johnson. Disney. Bank of America. Intel Corporation. Quindi, anche qui, aziende di un certo calibro. E così via. E quindi, questo era il secondo ETF che molto probabilmente inserirò in questo piano di accumulo. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Poi abbiamo, questo lo vediamo dopo, anche questo. L'ultimo che voglio vedere, l'ultimo che voglio vedere, appunto, è il NOPL. Cos'è il NOPL? E' un insieme di aziende dette aristocrats. Che cosa si intende? Questo portafoglio, andiamo a vedere immediatamente quali sono. Eccole qua. Sono aziende che negli ultimi 25 anni hanno sempre rilasciato dividendi. Quindi significa che a noi interessano tantissimo per un'ottica di diversificazione, appunto, per un'ottica di lungo termine. Perché sappiamo che se negli ultimi 25 anni hanno sempre rilasciato dividendi, molto probabilmente sono aziende in salute. Perciò ne avremo un beneficio a livello di performance. Infatti le performance ultimi 5 anni 88%. Anche qui stiamo parlando di numeri importanti. E cosa volevo mostrare? Andiamo a vedere l'andamento grafico. Ok, NOBL. Eccoci qua. Andiamo a togliere il confronto perché è fastidioso al momento. Ok. E sembrano andamenti tutti simili, anche col portafoglio growth e col portafoglio value, ma appunto la composizione è diversa. Infatti nei prossimi video che cosa andremo a vedere? Andremo a vedere come pararci da questo rischio. Perché se vi è un crollo di mercato, ad esempio questo crollo che vediamo qui a marzo 2020, l'abbiamo visto sia sul portafoglio value, che su quello growth, che su quello aristocrats. Quindi come possiamo andare a coprirci in modo che quando il mercato ci viene contro noi riusciamo comunque ad avere dei guadagni? Questo lo vediamo nei prossimi video. Perciò alla prossima.